i vecchi uffici sono più grave mi chiamavo che quando ho fatto una luce lui diceva quando ho fatto il fondo avanti al luce faccia tutto mi ha fatto tutto mi ha fatto tutto quando ho fatto delle forme che lui li passi sulla sera mi ha fatto dicendo che qui mi girava tanto perché mi chiamava la popettina per sapere che cosa ha successo a lui lui è stato facendo questo se vuoi venire anche tu puoi venire vieni che non è così la situazione se vengono precisanti sono stati stati animali ho detto ho pensato perché non ti darei mai il cane perché? è un'apparazione durante i fidi? aspettiamo vuoi? non le vuoi le coccoline? padulo solo a te le devo fare? non le vuoi le coccoline? ma è quello che io sappiamo perché per una strategia su tutti i dati per maturare ho fatto la storia e ho fatto tutti i grandi di questo poi ovviamente si può tirare su tutti i dati per maturare